È la tredicesima edizione di una manifestazione molto importante, Olio Capitale, che si tiene a Trieste. Noi siamo stati coinvolti già da diversi anni perché la Camera di Commercio di Pescara prima e oggi la Camera di Commercio Chiedipescara è socio dell'Associazione Città dell'Olio che raggruppa tutti i comuni, le città che hanno questa particolarità di avere questo splendido prodotto. Saranno 12 quelli che parteciperanno a questa manifestazione, si terrà dal 16 al 18 di questo mese. Noi contiamo che abbiano la possibilità di avere una vetrina che credo che sia senza dubbio la più importante vetrina dell'olio extravergine di oliva. Contiamo nei prossimi anni di recuperare il tempo perduto sull'olio mentre il vino ha fatto il suo percorso e ormai è in fase di espansione tranquilla. Invece l'olio ha bisogno di essere sostenuto, di essere promosso e noi intendiamo nei prossimi anni puntare sulla promozione di questo splendido prodotto. L'olio abruzzese che si affaccia a questa vetrina importante, con quali numeri e quali obiettivi? Che cosa si prevede per la stagione 2019? Allora intanto noi possiamo dire che noi dobbiamo ringraziare alla nostra cultivar autoctone, la dritta che ha salvato un'annata. Nonostante tutto l'olio extravergine d'oliva cresce il consumo di qualità, siamo sempre più conquistando mercati nazionali ma quello che più ci sta dando soddisfazione sono mercati extra UE come il Giappone, la Russia, i paesi emergenti e soprattutto possiamo contare su una classe di imprenditori, soprattutto giovani, che stanno emergendo, che stanno mettendo a frutto quelle che sono le conoscenze professionali, tecniche e hanno fatto molti investimenti. Il futuro passerà attraverso l'olivicoltura, l'olio, promuovendo il turismo, il territorio e l'enogastronomia.